Ben trovati in questo nuovo appuntamento di correnti estive, oggi abbiamo ospite un collega, un collega che in questi giorni, ma non solo, è stato per così dire sul pezzo, ma c'è stato anche con una certa sofferenza e per la verità anche con una certa ansia di tutti noi, che non solo abbiamo parteggiato per lui in questi lunghi anni in cui si è trovato al centro di una paradossale vicenda giudiziaria. Si tratta di Agostino Pantano, la notizia è di ieri, noi l'abbiamo lanciata dalle nostre attestate, ma così come hanno fatto per la verità tanti altri colleghi, Agostino Pantano, giornalista, uomo della piana di Reggio Calabria, al centro di numerosi pezzi nella sua attività professionale contro l'Andrangheta, un giornalista insomma di frontiera veramente, però anche giornalista rispetto al rapporto magistratura e il resto dei poteri, il resto del mondo, abbastanza equilibrato per certi aspetti anche fuori coro, come mi definisco io, non sempre molto amati nella nostra stessa categoria per una serie di contraddizioni che purtroppo tutte le professioni hanno. Allora, Agostino Pantano, tu sei stato diciamo al centro di una vicenda giudiziaria, che dicevo, specialmente paradossale, cioè tu sei stato indagato e processato per ricettazione di notizie. Sì, sostanzialmente. Ora, poi questa nostra chiacchierata la allargheremo certamente, ma restando un po' al tema di quello che oggi rappresenta la nostra professione in questa regione, ma soprattutto anche a quanto diciamo anche queste vicende un po' sono anche figlie di noi stessi, diciamo, di questa nostra stessa professione. Intanto sta ricettazione di notizie, perché detta così, se poi uno va a vedersi e non ti legge come io ho fatto nel corso di questi mesi, quindi avevamo in qualche modo un'agenda, ma uno che si trova per la prima volta di fronte a un giornalista di accusato e processato di ricettazione di notizie. Intanto Agostino è stato assolto perché il patto non sussiste, io ho scritto ieri e meno male, perché altrimenti ci saremmo trovati di fronte a un nuovo brobrio giudiziario, perché purtroppo in questo paese quando non c'è la norma c'è una sorta di giurisprudenza creativa, in cui la norma la si interpreta e questo è un qualcosa che comunque fa preoccupare sulla deriva anche di come vanno le cose in questo paese. Allora Agostino, questa ricettazione che cos'è? Per il codice penale italiano il ricettatore, articolo 648, colui il quale si avvantaggia, cioè trae un profitto letteralmente, da un'attività illecita commessa da altri. acquistando o ricevendo una cosa, la parola cosa è fondamentale in questa odissea giudiziaria. Quindi secondo la procura io sarei stato, potevo essere, colui il quale da un furto, tra virgolette, commesso da altri, di documenti segreti, avrei tratto il profitto di scrivere questi articoli nel 2010 e quindi io il ricettatore, cioè che si avvantaggiava… Però sicuramente poi il tuo profitto non si capisce qual è il materiale, se non quello di informare l'opinione pubblica. Però è utile rimanere su questo perché ieri è successo un fatto importante, la procura stessa al termine di una odissea giudiziaria durata 5 anni e al termine di un processo durato 20 mesi, ha chiesto la mia soluzione. Quindi uno può essere tentato di dire, ma scusate alla fine quindi c'è stato un abbaglio giudiziario? Ha chiesto la mia soluzione perché anche il capo di imputazione applicato al giornalista, cioè la cosa, torniamo quindi alla definizione dell'articolo 648. Qual è la cosa con cui il giornalista Pantano si sarebbe avvantaggiato? Per esempio la cosa per la procura era la notizia. Ora la notizia è un bene intangibile per definizione, non è una cosa materiale, tant'è vero che la ricettazione nel libro secondo, dico una cosa tecnica ma è facilissima, il libro secondo del codice penale è reato contro il patrimonio, quindi il patrimonio presuppone una cosa materiale e quindi c'è un primo livello di gravità che è generale e riguarda tutti i giornalisti. guai se passa il concetto che la notizia è una cosa trasferibile e che il giornalista può trarre un profitto da un reato commesso da altri, quindi questo è il primo livello. Il secondo livello è più stringente diciamo al mio caso personale, io non ho subito nessuna indagine paradossalmente, cioè mi è arrivato un avviso di conclusione indagini, ora tu sai quando c'è un avviso di conclusione indagini vuol dire che già era confezionato. Sono stato già espletate diciamo tutte le verifiche. Perché proprio ieri questi paradossi, questi limiti dell'indagine che non c'è stata sono emersi e io devo riconoscere alla Procura di Palme, al nuovo corso della Procura di Palme di aver interpretato con onestà il suo ruolo, cioè alla fine chiedendo la mia soluzione anche la Procura vuol dire che c'è la possibilità di ammettere un errore e con onestà e senso di responsabilità dire che non c'erano i presupposti per questo processo, che è una cosa che noi abbiamo detto da sempre, un processo ingiusto che non si doveva tenere. Quindi l'unica soddisfazione quale può essere alla fine? Quella da parte nostra di aver tenuto in piedi una mobilitazione anche attraverso il sostegno dei colleghi, la tua emittente ad esempio è stata tra le prime che ha fatto denuncia di questo fatto, ma anche il sindacato dei giornalisti sia a livello regionale con Carlo Parisi che a livello nazionale con il presidente Beppe Giulietti hanno individuato questo caso estremo dicendo che la libertà di stampa può subire bavagli di ogni tipo, il potente che si lamenta, la lite temeraria, le richieste di risarcimento danni esorbitanti, però ci può essere una nuova frontiera dei bavagli che è quella di una deriva giudiziaria, cioè un processo che non si doveva tenere e che blocca il giornalista. Ecco, dicevamo, per fortuna si è conclusa, diciamo perché oggi spesso per quello che sta avvenendo è difficile, almeno in un primo grado di giudizio, che in qualche modo venga smentito, anche di fronte ad errori eclatanti, potremmo citare una letteratura di casi che poi o l'appello o la Cassazione ha riportato il diritto nel suo alveo naturale dell'interpretazione della norma così come ce l'hanno insegnata all'università. Però è stato, sono state sei lunghi anni, è stato un momento pericoloso perché la tua vicenda in qualche modo, ecco quando si parla delle libertà, molte volte a sproposto delle libertà di stampa, associandole ad alcune cose veramente demenziali in alcuni casi, ecco qui siamo di fronte veramente perché insomma tu hai testimoniato e per fortuna abbiamo avuto una vicenda che ha riguardato, ma in realtà veramente alla base c'era la tenuta di quello che è questa nostra professione, perché una interpretazione creativa di questo reato che è insomma legato alla notizia e quindi al sacrosanto diritto costituzionale tra l'altro di informare e del dovere di informare i cittadini e per fortuna è stato mandato. Però noi siamo figli, ecco io qui siccome ho letto tante cose diciamo in questi mesi anche tu, siamo figli però chiaramente di una stagione dove ancora non c'è proprio tra di noi la consapevolezza vera, perché spesso la contestazione alla politica legittima di quello che avviene ha messo in contrapposizione con la magistratura e dentro questo scontro in realtà sono passati gli eccessi dell'una e dell'altra parte, ecco la tua valutazione qual è? è tempo che nel nostro mondo si cominciano ad attenzionare questi fenomeni di degenerazione perché noi su questo, figli di una stagione che in qualche modo ha anche rappresentato le fortune di certi nicchie editoriali che sul giustizialismo così definito hanno creato diciamo e hanno come dire, ha cresciuto anche i loro profitti, in questo caso sì, è tempo secondo te, dalla tua esperienza, da questi sei anni che hai avuto Moro anche, che ti hanno fatto riflettere che cambiamo una stagione, che si apre una nuova stagione politica rispetto a questo? Io credo che noi giornalisti dovremmo intanto svestire le casacche che abbiamo indossato, cioè è un sacrosanto diritto degli organi inquirenti indagare, la nostra regione è ai primi posti della classifica per la recudescenza della criminalità organizzata, quindi ci mancherebbe altro che non ci fosse questa attenzione e questo impegno civile da parte nostra a sostenere l'opera di bonifica, diciamo così, e però io penso che il giornalista deve raccontare, cioè il giornalista deve limitarsi a raccontare e a indagare senza verità precostituite, cioè Pasquale nella mia vicenda per che cosa io ho pagato? Perché io ho scritto i motivi per cui hanno sciolto un consiglio comunale, quindi hanno sciolto per mafia un consiglio comunale, quindi in qualche modo io avevo informato su quel legame perverso tra mala politica e mafia. Tra l'altro insomma in qualche modo erano usciti fuori anche contenuti della relazione? A distanza di un anno dallo scioglimento, quindi quando eventuali segreti d'ufficio erano superati. Allora io amaramente sai che cosa dico? Che probabilmente c'era la volontà di mettere un tappo, un cono d'ombra su quelle vicende e quindi il giornalista doveva pagare in qualche modo, però questa vicenda è paradigmatica della difficoltà che dici tu e allora noi dobbiamo ritornare alla funzione sociale del giornalismo che in Calabria soprattutto significa raccontare i potentati che siano potentati occulti, quindi l'andranghe della mala politica, ma anche le degenerazioni non come strapotere, perché io attenzione, è successa una cosa importante ieri, perché ieri la magistratura ha ammesso che ci può essere un eccesso di attenzione, di sbagli e quindi si è emendata, ma viva Dio, questa è la democrazia, guai se invece noi tutti, giornalisti, magistrati, politici sentissimo di avere questa missione per cui la nostra verità è l'unica verità, no, ci sono i pesi e i contropesi e in questo senso la funzione del giornalista è quella non di favorire il consenso sociale di chi indaga, a me non piace questa funzione, a me piace la funzione di favorire il controllo sociale, cioè i cittadini, i lettori, tutti devono sapere che la stampa controlla tanto gli errori della politica quanto gli eventuali errori. Cioè la funzione che in America è molto forte del quarto potere, che in qualche modo interviene sui poteri istituzionali. Guarda e ti parla un giornalista che prima di questa vicenda, io venivo tacciato per essere un giornalista manettaro, credimi, io non sono mai stato tifoso delle manette, delle indagini, io mi limitavo in un territorio come quello di Gioia Tauro, in anni difficili, ricordiamolo, le autobombe a Gioia Tauro, gli imprenditori che saltavano i navi, sindaci arrestati, un consiglio comunale sciolto, le operazioni antimafia nel porto, noi eravamo là, in trincea, come tutti abbiamo svolto il nostro ruolo, dando la parola, raccontando e dando la parola ognuno. Quindi, come dire, dall'oggi al domani io invece mi sono trovato all'altra parte, cioè come il giornalista che in qualche modo, perché nel mio processo era parte offesa, era il Ministero della Giustizia, guarda è una cosa terribile perché un giorno tu lavori gomito a gomito, paccia a terra con gli inquirenti e il giorno dopo ti trovi immerso invece in un mondo opposto dove tu sei il criminale. Ecco, questa mia esperienza mi porta a dire non indossiamo mai le casacche se mai qualcuno le possa indossare, ma nel rispetto dei ruoli io non penso che bisogna fare battaglie di tipo culturale, in passato ci sono state anche esagerazioni, io ad esempio ho avuto per nove mesi, ho collaborato con un giornale Il Garantista che diciamo poneva un tema vero, che è un tema che non è né di destra né di sinistra, ma è un tema di giustizia, probabilmente con degli eccessi, probabilmente con dei personalismi da evitare assolutamente. Ma guai se noi ritenessimo che i giornalisti, i magistrati o i politici fossero in delle zone franche di impunità, non può esistere, anzi io credo che il politico lo so, dirò una provocazione, il politico dovrebbe essere contento di avere il fiato sul collo del giornalista, così come pure i magistrati. Guarda, io non ho idea quanta solidarietà personale, vicinanza umana io ho avuto in questo periodo dai rappresentanti delle forze dell'ordine, da magistrati, da persone che sono in trincea nel capire che era stato commesso un errore, un accadimento, un'ingenuità. Io non ho modificato la mia stima verso chi indaga, ho semplicemente detto alt, si può sbagliare. Questo lo pensavo prima e lo continuo a pensare oggi, ma a maggior ragione bisogna chiudere ogni bavaglio alla stampa. Hai detto delle cose sacrosanti che io condivido, soprattutto questa affermazione sul controllo sociale. Chiaramente viviamo in una società che ha bisogno di, questo intendevo, di nuove prospettive di osservazione di tutte le questioni. La politica mal sopporta la stampa che non gli va a favore, o meglio la stampa che mette al corrente. Tutti noi svolgendo questa funzione ci troviamo spesso tra l'incudine e il martello a gestire anche tutto questo settore delle querele, alcune volte assolutamente anche qui, che fa parte di un altro ragionamento in cui diciamo anche questo va in qualche modo regolamentato, ma ogni volta che si tocca insomma se la funzione anglosassena dell'informazione è quella prima la notizia. Ecco, io mi riferivo molto spesso che per le visioni ideologiche sbagliate in una società dove ci si è divisi tra garantisti e giustizialisti, un grande giurista sosteneva il sol fatto che in una società democratica ci siano garantisti e giustizialisti vuol dire che c'è un problema di fondo sia nella giustizia sia nelle informazioni. Ecco, il punto della battaglia culturale è quello di non assumere ideologicamente schieramenti da una parte all'altra, perché poi questo Paese ha bisogno, rispetto a certe questioni, di trovare delle normalità, perché noi siamo il Paese o della sua efazione, quindi il Paese che ci passa addosso tutte le degenerazioni politiche e economiche dal masso e poi i momenti di grande populismo che servono a lavarci la coscienza di non esserci accorti prima in quale meccanismo. Però in Calabria questo conflitto sembra eterno, anche se oggi il problema di queste ore che noi stiamo vedendo tutta una serie di situazioni che si stanno scoperchiando per esempio a Reggio, nella tua provincia, anche qui con tutta una serie di coinvolgimenti che adesso non bisogna capire, in cui questa regione sembra che la normalità non la raggiunga mai, dove le contaminazioni e certi rapporti paradossali tra economia, politica, malaffare, ma addirittura pezzi mediatici e quindi c'è l'eterno conflitto tra un'informazione che quasi non diventa rigettatoria, ma ricattatoria rispetto al potere. Tu rispetto a questo che ti sei fatto? Guarda, noi ora abbiamo la fortuna in questo momento storico di avere a capo delle principali procure calabresi delle figure che vanno oltre il loro ruolo. Per me questa è una fortuna, cioè io credo che chi indaga, chi ha la funzione penale come obbligo, in questo momento ha in Calabria un ruolo purtroppo anche di supplenza rispetto ai valori di questa crisi della politica che è ormai eterna. Detto questo però, ritengo che la società calabrese, e per società calabrese io distinguo la società civile dalla politica, perché purtroppo noi abbiamo anche questo tipo di degenerazione. Io credo che la società calabrese in questo momento ha la possibilità di farsi un'idea sugli schemi nuovi dei rapporti perversi tra mafia tradizionale come lo intendevamo e poteri forti quello che sta emergendo dal Reggio. E quindi che cosa chiediamo noi a questi investigatori, a questi valorosi investigatori, non la pedagogia della legalità, questa parola legalità ormai sembra, noi chiediamo che ci sia una sorta di frusta emotiva alla società, alle articolazioni della società, le università, le associazioni culturali, ad esempio il Reggio, non è stato questo vento nuovo che arriva a livello extra politico, si sospetta l'esistenza di una loggia, poi vedremo, non stiamo facendo un discorso di tipo di indagine o penale, stiamo facendo un discorso di tipo culturale. Purtroppo non c'è quel fermento culturale al Reggio idoneo accogliere queste novità ed ecco che la magistratura non solo sopperisce al voto della politica, sopperisce a due funzioni, sia quella sociale e culturale che quella politica. Questo guarda, da qui bisogna ripartire e in questo io credo che devono avere un ruolo fondamentale le menti critiche anche, gli intellettuali, ecco perché non ci possiamo appiattire nel partito, nelle casacche giustizialiste o garantiste che sono superate. Bisogna leggere il fatto di cronaca, quindi gli arresti, le indagini che ci saranno e che avranno il loro corso, bisogna leggerli, ma che tipo di schema nuovo ci stanno proponendo? Ci stanno proponendo ad esempio uno schema nuovo in cui pare che questa presunta loggia segreta condizionasse lo sport, tutte le attività. Tutte le articolazioni sociali che neanche te l'aspetto. E allora non vorrei che la società calabrese trovasse l'alibi di dire tanto è una cosa che compete ai magistrati oppure tanto è una cosa che compete alla politica, no, ecco il ruolo della stampa, cioè se la stampa si limita a leggere solo acriticamente i fatti di cronaca, sbaglia, bisogna problematizzare i fatti di cronaca, bisogna dare la notizia e poi sollecitare il dibattito, ma senza anche quella visione paternalistica, per cui nei territori c'è il leader culturale oppure in qualche modo la figura emblematica di riferimento che poi molto spesso riporta anche idee vecchie, vecchiume. Da questo punto di vista io credo che la società calabrese può essere stimolata una novità. Cioè è necessaria un'azione stimolatrice che oggi per certi aspetti è avvenuta per il termine del risultato. Tra l'altro io ti sentivo l'altro giorno in diretta, hai fatto in diretta quando si parlava anche di quello che sta avvenendo nella piana sul piano della migrazione, dell'accoglienza e vi dicendo. Lasciamo stare perché quello è vero, ma cosa è successo in tutti questi anni? Che tipo di funzione è intervenuto? Chi specula su queste questioni? Noi siamo abituati a stendere dei peli. La tua esperienza che è drammatica sul piano umano e personale perché comunque un processo penale per una persona per bene è qualcosa che ti lascia e ti cambia anche profondamente. Io su questo volevo… Guarda questa cosa, la cosa che mi ha dato più amarezza in tutti questi mesi, ne parlavo ieri con i miei avvocati Salvatore Costantino e Claudio Novella a conclusione del processo, quindi come dire a bocce ferme, chiacchieravamo e ho detto guarda il paradosso di quell'inchiesta che io ho fatto nel 2010. Nelle carte presuntamente secretate che io avrei ricettato c'erano dei nomi ovviamente. Tra i nomi c'era quello del boss di Taurianova, un uomo Ernesto Fazzalari che ha avuto 20 anni di una latitanza dorata. Quello diciamo che è stato arrestato qualche giorno fa. Quindi io pago perché ho fatto quel nome che c'era nella relazione del sceglimento del Consiglio Comunale. Lui ha fatto la latitanza dorata e io sono stato indagato, processato ingiustamente. Però c'erano anche altri nomi, c'erano i nomi dei politici. Guarda il paradosso, l'ex sindaco Rocco Biasi, non solo il cui nome era abbondantemente disseminato in quella relazione, non solo si è ricandidato a sindaco, non solo ha fatto carriera, lui è assessore provinciale, ma ha detto, perché è venuto a testimoniare nel mio processo, che lui dopo quei fatti segnati nella relazione non ha mai subito un'indagine. Dice io non sono stato indagato, quindi ho querelato Pantano perché avrebbe detto il falso. Quindi, come dire, il bubone della mala politica e della mafia è rimasto franco se per 20 anni abbiamo avuto il boss della titania e invece il giornalista si è dovuto difendere. Quindi capisci che allora bisogna anche ripensare la legge sullo scioglimento dei consigli comunali, senza isterismi. La legge va migliorata, la legge ha un portato straordinario, va migliorata in alcune cose e in questo senso il giornalista che cosa aveva fatto? Aveva informato su che tipo di bonifica occorresse e non può essere indagato e processato perché ha fatto informazione di notizie importanti, insomma, antimafia in Calabria. Un paradosso, questa nostra chiacchierata la concludiamo così perché è volata subito, 30 minuti diciamo in cui abbiamo ripercorso, però abbiamo toccato diversi punti e in qualche modo vanno nella direzione che indicavi tu prima, di offrire stimolazione sulla base di una esperienza pratica e quindi della plastificazione di una contraddizione e di diverse contraddizioni che dalla vicenda giudiziaria è arrivata fino alla questione dello scioglimento, al rapporto della politica e tutto. E questa chiacchierata diciamo oltre che piacevole anche perché liberata dal peso di questa attesa durata sei anni, io saluto Agostino, lo ringrazio, ovviamente il nostro è un arrivederci perché poi Agostino è un nostro interlocutore privilegiato anche per quanto riguarda l'attestata. Grazie Agostino, la puntata di Correnti Estiva finisce qua, alla prossima. Grazie a tutti.